Purtroppo una brutta notizia da sottomarina, nella strada che vedete che è dalle parti dietro il parco hotel, è stata ritrovata una signora di un'abbastanza giovane d'età senza vita, i vicini ci hanno avvisato che sono intervenuti i vigili del fuoco e l'ambulanza ma evidentemente per la poverina non hanno potuto far altro che constatarne l'eccesso. In questo momento ci sono le forze dell'ordine che da prassi staranno aspettando il via libera del magistrato per poter spostare la poverina. Per il momento è tutto, se avremo eventuali ulteriori aggiornamenti sarà nostra cura a visarvi.